Appassionati di football, amici di FIDAF-TU, benvenuti in stadio comunale di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo. Lions contro Jaguari per questa quarta settimana del campionato italiano di football americano di prima divisione. Potrebbe essere questo, potrebbe essere questo per l'attacco dei Lions un po' la chiave. Intanto vediamo un kick-off molto alto e corto, che sceglie di far imbalzare pericolosissima questa situazione. No, ma cosa stanno facendo? Preso dai Jaguari, preso dai Jaguari, un sidekick assurdo, l'hanno lasciata giù tutti, non la voleva nessuno questa palla. E qua andranno su un passaggio, vediamo se c'è Zecco. Niente blitz per i Lions, però non screen. Occio, bel blocco, bel blocco su Gambarini e questo è un bel primo down. A destra un lancio. Attenzione, attenzione, sembra essere sotto pressione, invece... Oh, attenzione. Troppo facile, palla troppo facile. Ci credono. Passaggio, sembra classico incrocio. Ui, 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 malissimo, malissimo. Malissimo, malissimo per i Lions, benissimo per i Lions che hanno lasciato incustodito un receiver che veramente l'ha presa e ha passeggiato. Primo e dieci da parte dei Lions. Ancora Jet Sweep di Brambilla. Ancora Reed, attenzione, questa prova aveva... Buoni blocchi, buoni blocchi, infatti. Attenzione, allora, questa ha avuto un'evoluzione particolare. Tra l'altro noto con gioia che nella linea di difesa dei Jaguari c'è Giulio Quadri, ex Lions. È vero, è vero, è vero. Sono molto contento, tra l'altro ottimamente bloccato da Vito Carminati in questa azione. Marziali preso benissimo. Ottima. Lo rifai uguale e gli vai in faccia pieno. Esatto, guarda, perfetto. Ottimo, ottimo. Grande Marziali, questa è la power sinistra con il pool di Vito Carminati. Tra l'altro pool eseguito molto bene. Così la buttare lì. Niente invece. Oh, grande rollout. Grande, secondo, terzo e quarto sforzo. Sono molto tifoso. I cavallini a me piace molto, ragazzo. Oh, finalmente, finalmente. La dote atleta, e in questo caso abbiamo colpito però con la Jetta. Potrebbe essere un'altra bella configurazione che è questa. Vediamo, un lancio quasi chiarato, Brambilla. Oh, buona la difesa dei Jaguari che non si fa bindolare. E poi il quarterback va su. No, niente, andiamo per un pass diretto così. Sassata. È grande Bonzani! Grande, 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 grande. Grande Bonzani! Sembrerebbe una corsa, assolutamente sì, e attenzione perché... Bella anche, fatta bene. Assolutamente sì, addirittura il pool del tackle. Oh, io ti faccio a guardare sto giro, non mi interessa. Ancora sempre pro formation, sempre... Blitz, 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 pressione, palla attesa. Buono, buono, quasi primo down. Diciamo impossibile da sconfiggere ma è molto antipatica perché è una difesa rognosa. Tanto, hai tanto... Mamma mia! Su doppia copertura, touchdown. Ragazzi, grandissimo! Adesso Ferris è impresso su Scaramuzza. Ancora palla... Eh, 10 yard e più... E scivola qua, eh. E scivola, rende facile il placaggio. C'ha in mano la squadra, la sta portando lui la squadra. Guarda, boom, bella finta. Esatto. Bel gioco, bravo. Concreti. Guarda l'outsellembe... Oh, adesso ci stiamo aggiustando però... Questa è una counter che... Mamma mia, che trattore! Eh sì, colpisce, colpisce. Eh sì, eh sì. Non lo fermi sul contatto. Non è perché c'è un fumble. Non è touchdown. O almeno... No, no, ma c'è addirittura... Gli dicano palla i Lions e si andrà recuperato. Attenzione! Eh, per i Lions buttare fuori la palla. La butto lì, una bella read. No? No, no. No, no, no. Oh, mio Dio! Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. E forse doveva succedere. E forse doveva succedere. Grandissima, grandissima azione, grandissima lettura. Motion di Brandella. Ops. Una solita finta. Alla quale non crede più nessuno. Stavolta sono tutti marcati e lui deve correre. Per forza deve correre. Ma direi che va molto bene. Per i Lions. E ancora andiamo in aria. Ancora ottime coperture. Ancora una volta. Brian deve correre. Ancora una volta chiude il primo down. Gran numero questa volta di Brian. Garetto sulla destra. La linea è in PES Pro praticamente. Si lancia. Brian vuole correre. Secondo me. Orchio al lancio. Bonzanni. Grande. Bonzanni quando lo chiamano. Siamo ancora comunque presto. Intanto ottima copertura. Brian va per core. E però lo lascia entrare. Attenzione. Lo lasciano. Lo lasciano. Incredibilmente. L'hanno lasciato entrare. Wow. Potrebbero impattare. Loro si va. Sprint. Attenzione. Bonzanni. Presa. Presa. Non è Bonzanni. Presa. Brambilla. 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 Presa. Qui ad Azzano. Partita chiusissima. Sempre. Doppia safety. Doppia safety. Oh. Intercetto. 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 Attenzione. 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 Wow. E chiama. Troppo tardi. Troppo tardi. Vabbè ma tanto. Avevano deciso di correre. Corre e si corre. Punto. Li fa arrivare a dei placaggi veramente bassi. È veramente difficile. Wow. Veramente difficile. Adesso il ragazzo è salito in cattedra. Come si dice. Ma rimaniamo qua. Abbiamo una pistol con quattro ricevitori aperti. Attenzione. Itch and go. Itch and go. No. Non forzare. E sei un matto. No. Partita finita. Partita. Oh. Fumble. 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 Partita finita. Oh. Che rischio. Che rischio. Che suicidio. Non devi fare. Che suicidio. Il defensive di te con la presa. Che rischio. Che rischio. Che rischio. Che rischio. Grazie a tutti.